Ciao a tutti da Solfatara News, il vostro punto di riferimento per ciò che accade ai campi flegrei, senza filtri e senza illusioni. Vi invitiamo a seguirci con attenzione in questi giorni, perché la situazione evolve rapidamente e vi terremo aggiornati con tutte le novità. Ieri 30 giugno 2025 è stata una giornata che non si dimenticherà facilmente. Alle 12.47 una scossa di magnitudo 4.6 ha colpito l'area flegrea, con epicentro nel golfo di Pozzuoli, di fronte al castello di Baia, a circa 5 chilometri di profondità. Una scossa forte, la più forte degli ultimi 40 anni in questa zona. L'hanno sentita a Pozzuoli, a Bacoli, a Bagnoli, al Vomero e fino in centro a Napoli. E come ogni volta, sono arrivate subito le dichiarazioni ufficiali. L'INGV spiega che siamo ancora all'interno del fenomeno di bradisismo attivo. Il ministro Musumeci rassicura, nessuna eruzione imminente. I sindaci comunicano che non si segnalano danni gravi, ma invitano alla prudenza. Tutto sotto controllo? No, non del tutto. Perché ieri una voce si è alzata sopra tutte le altre. Una voce autorevole, competente, ma spesso scomoda. Stiamo parlando di Giuseppe Mastro Lorenzo, vulcanologo e primo ricercatore dell'Osservatorio Vesuviano. Mastro Lorenzo non usa mezzi termini. Ha dichiarato che la scossa di ieri è un campanello d'allarme chiarissimo. Ha affermato che dobbiamo aspettarci eventi ancora più forti. E soprattutto ha detto qualcosa che nessuno nelle istituzioni sembra voler ripetere ad alta voce. Questo è stato il terremoto più forte mai registrato nel Golfo di Baia. Non possiamo più pensare che il rischio si limiti solo a Pozzuoli o Pisciarelli. Tutta l'area flegrea è potenzialmente coinvolta. Serve subito un piano serio di messa in sicurezza degli edifici e delle vie di fuga. Il territorio non è pronto. Questa scossa ci ricorda quanto sia fragile e complessa la situazione ai campi flegrei. Non è più tempo di sottovalutazioni o di false rassicurazioni. Noi di Solfatara News continueremo a seguire con attenzione ogni sviluppo per darvi notizie precise e aggiornate. Restate con noi perché solo con la consapevolezza e l'informazione si può affrontare al meglio un rischio così importante. Grazie per averci ascoltato. Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie per aver guardato il video.